This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Il brano che ci ascoltiamo adesso è di Nikolai Romanov Malone, voce chitarra del progetto Carrot Station. Punk rock cover band di Trieste, progettato nato nel 2008, assieme a Ra, chitarista triestino, portando avanti un mix tra cover e inediti. Nel 2011 vengono registrate tre tracce, Summer Night, Murdered, Resonance, presso lo studio di registrazione di Bardi, batterista dei MySpace Invaders. Nel 2012 Summer Night esce come singolo sotto l'etichetta Green Production, accompagnata dal videoclip. Nel 2014 esce un secondo singolo, Let's Do This Way, sempre sotto la Green Production. Nel frattempo si decide di dividere tra cover e inediti, cover suonati nel progetto Carrot Station, e inediti invece suonati da solista. Nel frattempo si decide di dividere tra cover e inediti. Nel frattempo si dice di Nel frattempo si percebe di tutti ii la sc too progetti. Nel frattempo si pleasuresati, fraka tross Duo assunt Quotra說 e inediti muitas pretzionali pi acoustic. Like a movie player all alone Something strange Comes back in his face The bloody rain It was mumbling I can feel there's such a pain Never ending I'd like to cry You were planting Something's in my mind I thought it was a love of love Like a movie player all alone Something strange Comes back in these days The bloody rain It was mumbling I can feel there's such a pain Time's never ending I'd like to cry You were planting Something Something In my mind I'd like to cry It was a love of love Like a movie player all alone I move and sang I move and sang Sono un gruppo rock italiano nato nella provincia romana all'inizio del 2000 Sono un gruppo rock italiano nato nella provincia romana all'inizio del 2000 Quando, dall'incontro di un malato di coresterolo e chiacchiere con dei musicisti alterati Si avvia la realizzazione del progetto musicale Ecco Voce Una commissione di suoni e parole Echi di un tempo lontano rivivificato nel metallico suono presente Il gruppo è composto da Gianluca Grigio, Voce, Sergio e Fabrizio Paolacci, Corde Elettriche Marco Bruni, Basso, Valerio Minna, Percussioni e Natale Romolo, Tastiere Mangiando una domenica mattina Quale bizzarra coincidenza Scoprire cadaveri di stelle Scoprire cadaveri di stelle Scoprire cadaveri di stelle Nel proprio piatto Freddo ormai Dopo averle uccise da notte Quanto strano Dopo averle uccise da notte Un uomo per così dire Apparentemente chiuso In una stanza Finestre aperte Un cane Un cane che è stanco e si lamenta Un ulando pigro Lo stimmigione Lo stimmigione Musica alla radio 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 Biola da postumi di sbronza Un'idee bellissima Si è in gara o di piulla Poveriggio perfetto Poesie nell'aria Quello di garbettisia Pennellon Un' specie Un'altra Anche Un'altra Ancora più oggi Presto l'inverno sarà finito Germoni verranno certo Muovi fiori Sulle tombe A primavera Benny S. è nato in Gran Bretagna e cresciuto alle isole Barbados La sua incredibile presenza scenica è stata paragonata a quella di Brian McKnight Ha iniziato a scrivere con il gruppo hip hop The Tribe Il suo amore, la passione per il canto e songwriting e la facilità con cui lo fa lo rende un vero professionista nel settore della musica Benny S. ha registrato e ha aperto per artisti che vanno da Frankie Valli, Tom Bennett, Sheehan, Wu-Tang, Rick Ross, Ace Hoods, Chantal Lane e Donnie Clang Grazie a tutti 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 Grazie a tutti